Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Roma per un veicolo in avaria, 3 km di coda tra Firenze Scandici e Firenze Sud, per traffico intenso, code tra Firenze Sud e Incisa Reggello, in direzione Bologna, code a tratti tra Calenzano e Barberino. Sulla A11 per traffico intenso, code tra Firenze Ovest e Prato Est. Sulla FIPILI, code a tratti tra Ginestra e Firenze Scandici in direzione Firenze, code in uscita all'Astra in direzione Mare. Ricordiamo infine che oggi è in vigore uno sciopero nazionale del personale di Trenitalia con possibili ripercussioni sulla circolazione ferroviaria con cancellazioni totali e parziali. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Vi auguriamo un buon viaggio.